Oh vai, se questo è un dogo. Ecco, ma se pareva. Perché? Vabbè, Yuri ti vecchia anche questa, una bella cata. Allora, notario come si sta ciclizzando tutto, vedi lì? Sì, lei è varnata. Grazie alle cuve mie. Guarda che culi tondi che cominciamo a avere. Ecco qua. Spina dorsale, non si vede. Posto le altre accennate, perché deve essere così. Non si deve, non vedere. Oh, guarda qua. Peccato che il padrone non paga e rompe i coglioni. Ma a parte questo dettaglio, il cane sta bene. E basta, se no vi è troppo lungo.